Il prodotto più diffuso di questo spirito rivoluzionario fu l'Enciclopedie, l'Enciclopedia, curata da due importanti illuministi, Diderot e d'Alembert. Cosa conteneva l'Enciclopedie? La risposta è semplice, tutto. Come dice il titolo, doveva essere un'opera enciclopedica, una delle prime del genere, che doveva cioè abbracciare tutti i campi del sapere, soprattutto quelli del sapere pratico. I volumi progettati erano molti, ben 45, ma erano venduti ad un prezzo accessibile. Chi li comprava aveva accesso alle risposte ai problemi della coscienza, ma poteva anche imparare come costruire un telaio con spiegazioni chiare e tavole illustrate.